PNRR, la Toscana fa squadra. Il presidente della regione Eugenio Gianni ha convocato stamattina a Palazzo Strozzi Sacrati i sindaci dei comuni capoluogo e i presidenti di provincia per fare il punto della situazione dei progetti in essere. Stiamo parlando di 3 miliardi e mezzo di euro portati indotte dal piano nazionale di ripresa e resilienza, un'opportunità unica per la Toscana da sfruttare al meglio. Vista la complessità dei bandi, delle scadenze, delle progettualità, la regione ha messo a disposizione degli enti locali un supporto tecnico amministrativo costante e un programma di incontri scanditi nel tempo per aggiornarsi continuamente. L'incontro di oggi è un incontro che facciamo ritualmente, ci siamo dati la scadenza con i sindaci e i capi gruppo in consiglio regionale di incontrarci una volta al mese e quindi a metà del mese lo faremo tutti i mesi per scambiarci le informazioni su come lavoriamo sul PNNR e con la regione che ha l'ambizione di svolgere una funzione di coordinamento, non di gestione diretta perché voi lo vedete ormai stanno prendendo corpo tutte le 200 linee di finanziamento del PNNR che impegnano tutti i ministeri che impegnano non solo comuni, regioni e enti locali ma impegnano anche enti che dipendono dai comuni e dalle regioni per dire sull'acqua sono i consorsi idrici, sui rifiuti sono le aziende di gestione dei rifiuti quindi la pluralità dei bandi impone un livello di coordinamento che va oltre comuni, province e regioni ma impegna tutto questo e è un lavoro molto fruttifero, in Toscana c'è da gestire ad oggi 3 miliardi e mezzo, sono le cifre con cui noi sommiamo i bandi del PNNR che riguardano la Toscana e un senso comune che è venuto di sostenerci perché abbiamo bisogno anche di più personale che si dedica ai progetti, abbiamo bisogno di creare le condizioni perché i nostri progetti entrino nei bandi nazionali e possano diventare realtà operativa.